Ben trovati a Qui Regione, questa è la settimana della conferenza del Sud promossa dal governatore Vincenzo De Luca, sabato e domenica a Napoli interverranno meridionalisti, presidenti di altre regioni, non soltanto meridionali, ministri, mentre le conclusioni sono state affidate al presidente del Consiglio Matteo Renzi. Sarà il solito rituale, per quanto interessante, sulle ricette per ridurre finalmente un dualismo storicamente e tipicamente italiano, per quanto la Svimez ci abbia ricordato che nel 2015 il Mezzogiorno non solo è cresciuto, ma è cresciuto molto più di quanto non abbiano fatto le altre regioni del nord del paese. Oppure c'è possibilità di inaugurare concretamente e con vigore politiche strategiche per le regioni del Mezzogiorno, proprio a Qui Regione il presidente della Svimez, Adriano Giannola, pur con cautela sugli esiti di questa conferenza, aveva ricordato utilizzando e invertendo uno slogan renziano che per far cambiare verso all'Italia si deve far cambiare verso al Mezzogiorno, soprattutto mettendo mano a investimenti pubblici di carattere strategico che non necessariamente significano per esempio il ponte sullo stretto. In verità il percorso avviato da De Luca, intanto in Campania, sembra muoversi in una direzione interessante. Molte risorse sono state appostate per aiutare le imprese ad assumere e per essere competitivi sul piano europeo e internazionale. Altre risorse vengono investite per realizzare e completare infrastrutture immateriali e materiali, molte di queste ultime rimaste appese per anni se non per decenni. Vedremo e sentiremo cosa verrà fuori da questa conferenza di sabato e domenica a Napoli, in qualche modo possiamo anche annunciarlo, qui regione, mercoledì prossimo si occuperà prevalentemente di questo. In questa puntata sentiremo due presidenti di altrettante commissioni regionali. Le commissioni regionali sono quelle che discutono, incardinano il percorso legislativo che poi approda appunto in aula per diventare legge, naturalmente se c'è una maggioranza che le sostiene, ma anche per dire che in fondo al di là della pessima stampa di cui godono le regioni, i consigli regionali, c'è da dire che alla regione Campania per esempio le commissioni per quante un po' nascoste o non considerate invece lavorano con grande allacrità senza entrare ancora nel merito se lo facciano bene o male, certamente lavorano. Sentiremo Gennaro Oliviero del Partito Democratico che presiede la commissione che si occupa di ambiente e protezione civile e sentiremo anche Valeria Ciarambino del Movimento 5 Stelle che presiede la commissione speciale Trasparenza, una di quelle commissioni speciali di garanzia che viene assegnata all'opposizione. La prevenzione del rischio sismico, questo è un po' il tema al centro dell'intervista con Oliviero, anche alla luce dei recenti bandi regionali per oltre 25 milioni di Euro destinati ai comuni della Campania che presenteranno i progetti previsti dalle tipologie individuate dai bandi. sentiamo dunque Gennaro Oliviero, Presidente della commissione Ambiente e Protezione Civile. Presidente, cominciamo dai piani di protezione civile, la zona rossa, il ridosso del Vesuvio, i campi flegrei, ma anche i territori colpiti dal sisma del 1980. Le amministrazioni locali rinitenti nei confronti delle quali lo stesso Presidente De Luca ha usato un incoraggiamento molto severo, a che punto sono? Hanno recuperato? La Giunta regionale ha approvato questo piano che riguarda 700 mila abitanti, che è l'area del vulcano, del Vesuvio, poi ci sarà il piano che riguarda tutta la zona dei campi fregrei, altri 500 mila persone. Sono due piani operativi che prevedono il sistema di fuga in caso di calamità e di messa in sicurezza dei cittadini e insieme a questo la regione, ormai in commissione incardinata alla legge regionale per la protezione civile, questo test unificato che abbiamo iniziato già le consultazioni la settimana scorsa, abbiamo invitato tutte le prefetture, i comandanti dei vigili del fuoco provinciali, tutti gli attori che sul piano istituzionale di solito sono impegnati in queste vicende di protezione civile. Adesso raccoglieremo da queste istituzioni le loro indicazioni, in particolar modo il funzionale della Prefettura di Avellino, molto attenta per la verità a queste vicende di protezione civile, ci farà avere delle indicazioni che possono migliorare ulteriormente il testo che teniamo attualmente in discussione. Inizierà la discussione su questa materia la prossima settimana, fisseremo i termini per gli emendamenti, daremo dei termini evidentemente abbastanza congrui, perché comunque è una legge importante, abbiamo bisogno di farla in tempi buoni, celeri, ma nello stesso momento cercando di portare a casa una legge qualitativamente valida. Torneremo tra poco sul nuovo testo delle norme sulla protezione civile, Presidente, intanto non le sfuggirà questa sorta di pregiudizio un po' duro a morire, secondo il quale i piani della protezione civile, soprattutto i piani di evacuazione funzionerebbero soltanto sulla carta, non è proprio così per fortuna. Per fortuna non è proprio così, nel senso che è chiaro, prevedere un piano di evacuazione di 700 mila abitanti è una cosa notevole, è importante e se funzionano c'è bisogno nei prossimi mesi di incominciare a fare alcune prove che riguardano magari parte della popolazione, di come si può rispondere ad un'emergenza del genere. Chiaramente i piani, come i piani comunali, qui tutti i comuni si devono dotare, la Regione l'ha passata a leggellatura, ha stanziato delle cifre importanti a sostegno dei comuni che fanno i loro piani di protezione civile comunale. Quasi tutti i comuni della Campania si sono dotati di questo strumento, agli altri che non si sono potuti dotare perché non hanno risposto in tempo al bando, ci auguriamo che nei prossimi giorni la Regione rifaccia un altro bando per poter pure completare questo quadro completo di questi piani comunali, che sono piani comunque importanti perché riguarda la vita quotidiana di tutti i cittadini e nelle dimensioni comunali è possibile verificare la qualità del piano. Presidente, lei faceva riferimento al nuovo testo in itinere che riguarda la protezione civile, quali sono, se ci sono novità importanti o si tratta soprattutto di un testo che riorganizza al meglio ciò che era già noto? Sicuramente non è che la legge regionale può discostarsi dalla normativa nazionale, noi all'interno della normativa nazionale dobbiamo specificare il ruolo che la Regione ha nel sistema di protezione civile e questa è la competenza che ci affida la legge, quindi nel quadro della legge nazionale inserire il ruolo. Noi pensiamo a fare le cabine provinciali, queste cabine presso il Genio Civile della Regione che è già un ufficio che è abilitato a questo tipo di attività, che deve collaborare e deve essere oggetto di intervento e di coordinamento da parte dei prefetti, insieme ai vigili del fuoco e alle altre forze impegnate nel meccanismo, impegneremo poi le comunità montane nelle loro organizzazioni di comuni associati per le zone interne, per le attività specifiche, faremo in modo che si crei una rete di protezione civile con tutti i vari livelli di responsabilità accaduta dalla Regione, perché il responsabile della protezione civile è il Presidente della Giunta regionale, cercheremo di creare un ufficio speciale di protezione civile alle dirette dipendenze del Presidente della Regione che ha questo ruolo, vi ricordo che la protezione civile campana è stata sempre considerata a livello nazionale una delle migliori, ricordo a tutti l'ingegnere Calcare che è stato l'ideatore, il fondatore della protezione civile in Campania, abbiamo un'attrezzatura di tutto rispetto, la Regione ha impegnato 35 milioni di Euro per sia finanziare mezzi nuovi ai vigili del fuoco, sia dotarsi di automezzi per il nucleo di protezione civile regionale, l'autocolonna mobile che abbiamo, che adesso è impegnata nelle zone del sisma del centro Italia, ma soprattutto dotare i livelli locali di protezione civile di attrezzature necessarie per avere interventi nelle cosiddette interventi marginali che però nei comuni diventano pure cose importanti. I bandi regionali appena pubblicati per la prevenzione sismica in Campania, gli edifici pubblici cosiddetti strategici nel senso di scuole e ospedali, in Campania quelli considerati a rischio o quantomeno considerati oggetto di interventi sono quasi 3.400, in ogni caso questi bandi regionali, questi bandi regionali che è un bando con delle risorse importanti ma anche se limitate rispetto al numero degli edifici, però ritengo che su questo c'è una strategia del governo nazionale, non so se l'ha sentito il Presidente del Consiglio regionale, può fare questo grande piano per la sicurezza nazionale che riguarda appunto la scuola, gli ospedali, gli altri edifici strategici e lì io penso che intorno a queste vicende non mancheranno sicuramente le risorse nei prossimi anni per soddisfare tutte le necessità che abbiamo in Campania. Si tratta comunque di risorse significative, 25 milioni e 600 mila, i bandi della regione ai quali si aggiungono altri 19 milioni sullo stesso versante di intervento da parte della protezione civile, poi per allargare il patto per Napoli ci sono anche altri 75 milioni per la manutenzione, sempre nel patto per Napoli altri 20 milioni, insomma complessivamente un movimento di 140 milioni di Euro che comunque verranno spalmati in Campania. Tornerei però sui bandi per la prevenzione sismica, sono tre le tipologie, la più significativa che impegna più risorse, quasi 21 milioni, fa riferimento appunto alla messa in sicurezza degli edifici pubblici strategici comunali. I comuni della Campania sono 550, si farà una graduatoria, insomma come si procederà? Per cronologia o per emergenze e urgenze, cioè per priorità? Questa è una decisione che assume chi si occupa dell'attività gestionale della regione, il Consiglio regionale promuove queste attività, ma come si realizzeranno è competenza degli uffici e non della politica. Diamo la possibilità a tutti i comuni di partecipare, poi credo che i progetti migliori saranno finanziati. Ci sono timori un po' sui ritardi dei comuni oppure sui ritardi che potrebbero arrivare dalla macchina burocratica? Io non credo, ormai i comuni sono attrezzati per rispondere a questi bandi, quindi lo faranno generalmente, la regione è attrezzata a valutarli rapidamente, non credo che ci siano difficoltà nella tempistica. Ecco, il terremoto che ha sconvolto drammaticamente le comunità del centro Italia ripropone soprattutto continuando sull'Appennino e in Campania? Sì, diciamo che le zone ad alto rischio sono quelle. C'è la prevenzione antisilma e ci sono anche grandi problemi idrogeologici in Campania, la nostra è una regione parecchio abbastanza bucherellata e dobbiamo recuperare forse ritardi decennali. Cercheremo di farcela. Lei pensa il lavoro della Commissione? Il lavoro della Commissione è quello di fare leggi, regolamenti, attività legislativa, lavoro di indirizzo, di indagine, questa è l'attività della Commissione Ambiente. La sintonia con il Consiglio regionale e con la Giunta? Ottimo, c'è l'assessore Buonavità che è una persona estremamente abile e bravo, quindi riscontra i rapporti con il Consiglio regionale senza nessuna difficoltà. Bene, io ringrazio molto Presidente Oliviero. Grazie a lei. Con la Presidente della Commissione Speciale Trasparenza, Valeria Ciarambino, abbiamo fatto invece il punto sull'attività di questo organismo presieduto dall'esponente del Movimento 5 Stelle che è stata anche candidata alla Presidenza della Giunta regionale. Valeria Ciarambino, in maniera molto diretta e con affermazioni nette, ha molto da ridire dal suo punto di vista sulla trasparenza della Giunta De Luca e sugli atti dello stesso Governatore. Insomma è una critica serrata, della quale faremo tesoro, non fosse altro che per sentire sugli stessi argomenti cosa e come replicano da Palazzo Santa Lucia. Valeria Ciarambino. La Commissione Speciale Trasparenza, un anno e mezzo e anche qualcosa in più di Vincenzo De Luca alla Presidenza della Regione Campania, un primo bilancio dal fronte della Commissione. Guardi, questo Presidente sin dal suo insegnamento ha annunciato di voler fare della Campania e della Regione Campania una casa di vetro. Io dico sempre che si è dimenticato di pulire i vetri che sono sporchi e che quindi non permettono di fare nessuna trasparenza. Io rilevo un'assoluta mancanza di trasparenza nella gestione di questa Giunta regionale, di questo Governo regionale e le dico, quello che rilevo è che è ancora più grave e anche la riluttanza a fare trasparenza o ve sollecitato. A me è capitato come Presidente della Commissione più e più volte di convocare direttamente il Presidente o i suoi collaboratori in Commissione per chiarire delle vicende poco chiare. È un compito istituzionale della Commissione che viene istituita apposta. Ebbene, la risposta è stata non presentarsi spesse volte in Commissione e non chiarire quindi quello che c'era da chiarire. Questo è un comportamento che trovo che sia molto grave e tra l'altro irrispettoso dei diversi livelli istituzionali. Te Luca ne fa un punto di orgoglio quello della trasparenza amministrativa. In che cosa, diciamo così, non vi ha fornito spiegazioni? Io credo che questo Governo regionale possa essere considerato come la versione sceriffesca del nostro Governo nazionale, ovvero una cosa sono gli annunci e una cosa è la realtà. E questo vale anche in tema di trasparenza. Ci sono tantissimi provvedimenti che fa la Regione rispetto ai quali non c'è chiarezza. Noi, per esempio, ultimamente abbiamo convocato i dirigenti regionali per capire la ripartizione dei fondi POC, i fondi destinati alle attività culturali e ai beni culturali. Dal documento che la Giunta ha prodotto, dove c'è la ripartizione dei fondi, non c'è nessun criterio, nessun parametro che viene adotto per giustificare perché sono stati dati milioni di euro per la lirica, la legge di Caserta, milioni di euro per le luci d'artista a Salerno e invece per i beni culturali, quindi la valorizzazione proprio del patrimonio culturale della Regione Campania, c'è un appostamento minimo. Abbiamo ritenuto necessario fare chiarezza su questo, ma questo è solo un aspetto. Anche in tema di sanità la Commissione Trasparenza interviene su tutto quello che è trasparenza amministrativa delle attività e anche utilizzo dei fondi regionali. Quindi anche la sanità, proprio diciamo la scorsa settimana abbiamo convocato in audizione ad esempio il direttore generale dell'AS Napoli 1, non ce lo dimentichiamo, nominato da De Luca, per capire, per fare trasparenza sulla vicenda di un ospedale del centro storico di Napoli che si sta chiudendo con una gestione che dire approssimativa è veramente fare un complimento, questa persona non si è presentato. È un copione ricorrente, del resto lo stesso De Luca quando fa le conferenze stampa mal tollera le domande dei giornalisti e l'unica modalità comunicativa che lui conosce è fare i discorsi alla Nazione dalla sua televisione il venerdì pomeriggio o comunque diciamo respingere al mittente tutte le domande dei giornalisti che vengono poste in conferenza stampa. Chi fa trasparenza non deve aver paura di sottrarsi al confronto perché se non ha nulla da nascondere ha tutto l'interesse a voler spiegare la maniera in cui si agisce, non è così. Quanto c'è, non di personale naturalmente, ma quando c'è di psicologicamente riportato nel fatto che De Luca insomma non è mai tenero con voi del Movimento 5 Stelle. Guardi, io preferisco parlare di fatti più che di diciamo suggestioni psicologiche. Io parlo di fatti, dico che ci sono atti che non sono chiari, dove non c'è trasparenza. Lui invece fa diciamo, utilizza dei toni che non sono neanche secondo me degni di un Presidente, di quelli che un Presidente di Regione dovrebbe tenere. Per cui vorrei rimanere diciamo sul livello politico istituzionale ed entrare proprio nel merito delle questioni. Le faccio un esempio, un tema di cui la Commissione Trasparenza si sta occupando è il tema degli stipendi dei dirigenti regionali della Giunta e del Consiglio. lo sanno tutti perché è stato riportato dalla stampa che addirittura i siti e del Consiglio e dell'Aggiunta non erano aggiornati con i dati sugli stipendi e sui premi in particolare dei dirigenti addirittura da qualche anno. Abbiamo convocato la Commissione Trasparenza, sollecitato la pubblicazione di questi dati, questo risultato è stato ottenuto, ma ci sono tutta una serie di altre anomalie. Per esempio il fondo dei dirigenti dell'Aggiunta è di circa 20 milioni di euro e nonostante il numero dei dirigenti da quando è stato istituito il fondo sia stato ridotto tantissimo, quel fondo rimane invariato. Quindi quello che prima si spartivano, dico per dire, mille dirigenti, oggi se lo spartiscono in 100. Stiamo approfondendo la questione per capire se è una questione esclusivamente di opportunità o se addirittura ci sono delle irregolarità e procederemo. Ecco, da questo punto di vista, lei ha citato la sanità, ci ha detto questa cosa del fondo speciale per i dirigenti, quali sono gli altri livelli, gli altri riferimenti critici agli occhi della Commissione Trasparenza? Noi dobbiamo fare chiarezza sull'utilizzo di tutti i fondi, di tutti i fondi regionali, quindi certamente seguiremo, abbiamo una programmazione, seguiremo nel tempo anche l'utilizzo dei fondi europei, chiaramente è una programmazione che è appena cominciata, ci sono delibere recenti, quindi bisogna capire adesso come si darà attuazione a quelle delibere e sarà nostra attenzione a eseguirlo. Ma ci occupiamo di tutto, anche delle assunzioni, per esempio in ambito sanitario, tutto quello che può attenere a procedimenti che possono avere delle criticità dal punto di vista della regolarità amministrativa. Parliamo di sanità, anche perché lei è componente della Commissione Sanità, partiamo intanto dalle nomine di Luca, la vostra opinione, in questo caso non da Presidente della Commissione Trasparenza, ma da consigliere. Da portavoce del Movimento 5 Stelle, ma posso dire anche da Presidente della Commissione Trasparenza. E le spiego perché. La questione delle nomine, magari i cittadini la percepiscono meno come prioritario in ambito sanitario rispetto al dire impedisco che venga chiuso un ospedale. E invece non è così, non è assolutamente così. Poter avere ai vertici della sanità, che assorbe oltre il 70% del bilancio regionale, quindi parliamo di un sacco di soldi, le persone migliori, le persone veramente competenti, le persone che avrebbero la libertà e le capacità per poter gestire adeguatamente la sanità, potrebbe far fare alla sanità campana veramente il salto di qualità che fino ad oggi non c'è stato. Se noi ci troviamo ad essere commissariati, perché c'erano miliardi di euro di buco nella sanità, che sono stati provocati dalla mala politica e dalla cattiva gestione dei dirigenti e dei direttori messi là dalla politica, e oggi ci troviamo costretti a tagliare i servizi sanitari. Ebbene, se avessimo avuto delle nomine differenti, fatte con criteri di trasparenza e di merito, questo non sarebbe accaduto. La cosa scandalosa è che in Regione Campania De Luca ha avuto il coraggio di modificare una legge sulle nomine dei direttori generali delle asle e delle aziende ospedaliere in una direzione assolutamente contraria rispetto alla legge nazionale, che era emananda rispetto alla quale si attendevano i decreti attuativi. Quindi pochissimi mesi prima che entrasse in vigore la legge Madia, appunto quell'aspetto della legge Madia che disciplina le nomine in ambito sanitario, De Luca ha cambiato la legge regionale, noi l'abbiamo impugnata e contestata fortemente a livello regionale e a livello parlamentare, abbiamo scritto persino al Presidente della Repubblica perché noi vogliamo che ai vertici della sanità campana ci siano persone libere dalla politica e veramente libere di poter fare solamente gli interessi dei cittadini, oltre che le migliori e le più competenti. Questo non è stato, la Regione Campania si trova ancora nel medioevo della sanità con De Luca che è dabile burattinaio, manovra e piazza tutti i direttori generali. Lei è molto severa con De Luca, Presidente Cerambino, ma devi capire. Le sto raccontando un fatto. Senta, lei avrà letto, avrà visto questo progetto condotto dall'Università Torbergata di Roma di qualche giorno fa, questo progetto ci dice due cose, ci sono e permangono anche profonde diseguaglianze tra le regioni italiane nella erogazione dei servizi sanitari, la seconda cosa che ci dice ed è un po' più preoccupante, ulteriormente preoccupante, è che la Campania è all'ultimo posto, peggiorando così la sua situazione del 2013 quando precedeva Calabria, Buia, Sicilia e Lazio. Ora, questo progetto, al di là delle classifiche che possono anche prendersi con le molle, è preoccupante perché dà un giudizio strutturale sul settore, perché mette insieme le valutazioni di utenti, del management aziendale, delle professioni sanitarie, delle istituzioni, dell'industria medicale. Quindi è il risultato di un panel composito e abbastanza attendibile. Da questo punto di vista, che succede allora? De Luca dice che la sanità in Campania sta ritornando e deve ritornare, uscendo dal commissariamento a gloriosi prospettive, diciamo. Sì, questo fa parte di uno degli annunci di De Luca, che meno corrisponde a verità e che credo sia più scandaloso perché viene fatto sulla pelle dei cittadini. Diciamo, lo studio, il risultato dello studio dell'Università Tor Vergata, credo che poteva essere tranquillamente anticipato da un'intervista ai cittadini campani che usufruiscono del sistema sanità e che avrebbero potuto raccontare quali sono i disagi estremi a cui oggi si è sottoposti nell'accedere al servizio sanitario regionale. Purtroppo la situazione in quest'ultimo anno, in quest'anno e mezzo di governo De Luca non è assolutamente migliorata. Tutte le promesse fatte in campagna elettorale di non chiudere gli ospedali sono state puntualmente disattese. Si stanno chiudendo ospedali nel centro di Napoli, ma anche nelle altre zone, nelle altre province, nelle aree interne, mi riferisco per esempio all'ospedale di Rocca d'Aspide del Salernitano, quello che è molto grave è che ci troviamo in una situazione paradossale dove da un lato c'è il commissario di nomina governativa perché la sanità campana per colpa della pessima gestione di questi ultimi anni è stata commissariata e dall'altro ci troviamo un presidente di regione che di fatto nomina e mette i suoi uomini ai vertici della sanità campana. Loro si rimpallano le responsabilità e al centro a farne le spese ci sono i cittadini. Noi abbiamo studiato con attenzione il nuovo piano ospedaliero presentato appunto dal commissario Polimeni e tra l'altro le dico che c'è stato un consiglio monotematico sulla sanità in consiglio regionale della campagna richiesto e atteso per dei mesi e che poi si è risolto in un nulla di fatto. Sarebbe interessante vedere i video di quella giornata è stato un parlare a vuoto. Gli unici che hanno prodotto un documento articolato frutto dello studio del piano ospedaliero siamo stati noi del Movimento 5 Stelle abbiamo prodotto un ordine del giorno che analizzava puntualmente tutte le criticità del piano ospedaliero proponendo anche dei correttivi. Questo ordine del giorno è stato approvato ma io le dico che in una recente audizione del commissario Polimeni ho dovuto consegnargli dopo svariati mesi una copia cartacea perché avevo capito che neppure l'avesse ricevuto e neppure l'avesse letto. Tra le analisi critiche che noi facciamo sul piano ospedaliero c'è certamente la rete dell'emergenza perché la rete dell'emergenza chiaramente riguarda quegli interventi medici che sono salva vita parliamo di dover intervenire in tempi rapidissimi laddove appunto c'è una chiamata di un cittadino che vive in una condizione di disagio. Ebbene, questo piano ospedaliero che cosa fa? Taglia il numero di ambulanze medicalizzate con medico a bordo. La cosa che è grave è che questo taglio del numero di ambulanze va a discapito soprattutto delle aree interne che già vivono il più grosso disagio. Mi riferisco al 47% in provincia di Avellino, al 40% in provincia di Benevento. E questo provvedimento va contro quella che è la legge istitutiva dell'emergenza che dice che ci deve essere un'assistenza in ambito emergenziale che è omogenea su tutto il territorio. In questo modo qua facciamo in modo che chi vive in un paesino che è difficilmente raggiungibile perché abbiamo anche una viabilità che è in condizioni disastrose soprattutto nelle aree interne prima che arrivi un'ambulanza dovrà aspettare chissà quanto tempo e poi quell'ambulanza se la ritroverà nella migliore delle ipotesi con un infermiere e non ci sarà il medico in grado di intervenire. Questo è lo smantellamento sistematico che sta avvenendo della sanità pubblica in campagna dove si chiudono gli ospedali con la promessa di aprirne di nuovi ma intanto si chiudono e nessuno saprà né se né quando verranno riaperti e verrà garantita l'assistenza. Lei è d'accordo sulla proposta di ricongiungere in capo al Presidente della Giunta quelli che oggi sono i poteri commissariali che il governo ha affidato ad una struttura neutra esterna perché il ragionamento che si fa è il seguente è una cura da cavallo per uscire quella per uscire dal deficit sanitario e naturalmente si taglia molto si cerca di dare efficienza al settore con minor fondi evidentemente e però si sostiene, questa è una cura da cavallo che quando saremo usciti dal commissariamento saremo così in ginocchia da non potersi rialzare più cioè si può uscire dal commissariamento facendo scelte più politiche che commissariali è un po' questa la sostanza della proposta. Lei è d'accordo? È un cane che si morde la coda. Noi abbiamo avuto fino alla scorsa legislatura la figura del commissario che coincideva con la figura del Presidente di Regione non ci sembra che le cose siano migliorate di gran lunga tant'è che appunto le scelte che sono state fatte per risanare il bilancio della sanità sono state esclusivamente tagli di servizi nessuno ha messo mano agli sprechi nessuno ha riorganizzato nella maniera di aumentare l'efficienza e voglio dire anche un amministratore di condominio è in grado di fare una cosa del genere pertanto non è una risposta semplice io credo che se c'è un commissariamento far coincidere la figura del commissario col Presidente di Regione e far coincidere la figura del controllore e del controllato quindi probabilmente neanche questa può essere la soluzione ideale l'auspicio è che si possa uscire quanto prima dal commissariamento e che quindi la politica di questa Regione si possa assumere pienamente la responsabilità delle proprie scelte in ambito sanitario in maniera tale che quando verrà fatta una cosa come per esempio la chiusura dell'ospedale San Gennaro nel centro storico di Napoli contro cui ci stiamo battendo anziché il rimpallo di responsabilità tra i commissari che mi dicono che la responsabilità è del direttore generale dell'As Napoli 1 e viceversa si saprà esattamente con chi prendersela Ecco, intanto il Presidente De Luca ha preso anche proprio in queste ore una posizione molto forte per stare ai problemi del deficit dei costi, della spesa sulle prescrizioni cosiddette disinvolte il termine giusto è inappropriato che graverebbero e gravano sul bilancio della sanità ma anche rispetto alle strutture convenzionate sui tagli cesarei per esempio in eccesso a questo punto di vista insomma c'è un aspetto del settore che rischia di sfuggire comunque al governo della politica che spesso non ha una responsabilità diretta guardi la responsabilità la responsabilità c'è dal momento in che De Luca si è tenuto tutte le nomine della sanità senza nessun filtro rappresentato neanche da una commissione valutatrice o dalla valutazione dei curricola quindi la responsabilità lui ce l'ha visto che poi l'attuazione è in capo ai direttori generali per quanto riguarda il tema dei parti cesari io purtroppo è cosa poco nota ma svariati mesi fa il Movimento 5 Stelle ha presentato e fatto approvare una mozione molto articolata proprio sulla promozione del parto naturale questo è un punto cruciale in Regione Campania si raggiungono picchi di tagli cesari che sono a poco sotto il 70% in alcune strutture questo è gravissimo perché questo implica un costo notevolissimo certamente in ambito finanziario perché i rimborsi che vengono dati anche alle strutture convenzionate per i parti cesari sono decisamente più alti di quelle parti naturali ma c'è un costo sulla salute delle persone perché appunto chiaramente il parto cesario ove non necessario vuol dire sottoporre a un intervento chirurgico vero e proprio un paziente una paziente che non ne avrebbe bisogno quindi nella nostra mozione noi chiediamo di applicare il modello Lombardia che ha equiparato i rimborsi dei parti cesari a quelle dei parti naturali come elemento anche per scoraggiare eventuali chiamiamole vere e proprie truffe da parte anche di strutture private nei riguardi del sistema sanitario regionale questi sono i tagli che servono a questa regione mettere mano agli sprechi alle sacche di clientela che ci sono e che sono tantissime e riportare quindi il servizio sanitario e l'assistenza sanitaria a una qualità alta ecco un'ultima cosa presidente Ciarambino la politica all'interno del consiglio regionale l'opposizione fa quello che può mi pare di capire adesso si aspetta il referendum perché insomma le sorti future progressive di De Luca in qualche modo sono comunque collegate anche quelle di De Luca sono collegate al 4 di dicembre insomma però De Luca sembra avere una strada spianata davanti insomma l'opposizione che fa quello che può le alleanze che lo stesso De Luca si cuce un po' personalmente anche noi ci troviamo a vivere sarà lunga l'era De Luca questo è il io mi auguro di no io mi auguro di no anche perché gli annunci reggono poco poi i risultati i cittadini li vedono li sentono li vivono nella loro quotidianità e sono quindi in grado di valutare realmente l'agire di un governo regionale quello che io posso dire è che si fanno in questo consiglio regionale da parte del presidente della sua maggioranza continue forzature continue violazioni del regolamento le regole servono per tutelare la democrazia all'interno di un'istituzione le si viola di continuo e chiaramente questo rende la posizione dell'opposizione sempre più difficile da potersi esercitare il Movimento 5 Stelle non si ferma neanche davanti alle violazioni delle regole siamo gli unici che continuamente le denunciano io preparerò un dossier vero e proprio e cercherò di capire come agire perché non si può più tollerare questa situazione il presidente De Luca si è modificato lo statuto come tra i primissimi atti che ha fatto appena entrato in regione in pratica è come se avesse modificato la costituzione della regione campania incrementando l'istituto della fiducia in modo da poter avere il controllo assoluto sulla sua stessa maggioranza questo è il panorama che noi abbiamo di fronte contro cui ci troviamo ogni giorno a combattere nell'interesse dei cittadini campani ma lo ripeto non ci sottraiamo a questa battaglia e anzi credo che sia importantissimo il ruolo dell'informazione in questo perché laddove non arriviamo con gli strumenti che purtroppo vengono lo ripeto sono a volte delle frecce spuntate visto che vengono violate le regole mi auguro che possa arrivare l'informazione per far capire ai cittadini qual è il modo di procedere di questa giunta De Luca Lucida Artista Salerno o l'albero di De Magistris la diatriba è esplosa io avrei preferito che appunto quei soldi fossero utilizzati per questa terra per i tanti cittadini che fanno fatica ad arrivare a fine mese esistono delle priorità e queste priorità vanno perseguite non ci si può nascondere dietro un dito certamente la cultura la valorizzazione della cultura del turismo sul territorio è importante ma lo si può fare in tanti modi io le rammento che dall'alluvione di Benevento del trascorso oltre un anno gli unici soldi veri che sono arrivati sono quelli del Movimento 5 Stelle che si è tagliato gli stipendi e ha restituito 106 mila euro a una scuola alluvionata dove erano stati distrutti i laboratori di grafica e i laboratori informatici che adesso rivivono grazie al Movimento 5 Stelle questo vuol dire occuparsi delle priorità della regione Campania grazie Presidente Ciarambino grazie a voi con Valeria Ciarambino e prima con Gennaro Oliviero insomma si conclude questa puntata di Qui Regione io vi ringrazio per averci voluto seguire l'appuntamento è a mercoledì prossimo e ricordo che in quella puntata nella prossima puntata il nostro focus si concentrerà sulle risultanze e certamente su quanto verrà detto sabato e domenica prossima a Napoli con l'intervento conclusivo del Presidente del Consiglio in questa conferenza nazionale del Sud promossa dal Governatore della Campania Vincenzo De Luca sarà comunque una puntata molto interessante per capire in effetti che cosa davvero si muove di nuovo e di più rispetto al Mezzogiorno da parte del Governo da parte degli imprenditori da parte delle istituzioni e da parte della politica di nuovo grazie e buon proseguimento con le nostre trasmissioni arrivederci grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti